E allora si passa al vernetto della giuria tecnica e vediamo un po' cosa viene fuori. Questa è la graduatoria. Sogniamo in carnevale per impazza e schemazza dell'associazione Cuoco. Sesta posizione. 664 punti. Ricordatevi del futuro dell'associazione Principato Magna. Quinta posizione. Con 710 punti. Tutti matti per vivere dell'associazione Messina. Quarta posizione. Saliamo da 710 punti a 752. E vedrete come è strettissima la forbice del punteggio e quindi delle posizioni. con 752 punti. Digitavi nativi della selezione del Flore di Paola. con un solo punto di distacco a 753 punti. Prima che sia troppo tardi della selezione Principato Cavallaro. attenzione. A distanza di soli 3 punti con 756 punti si classifica al secondo posto. The Future Progressing della selezione Arizona vince Papa Nostrum con 805 punti della selezione Scania Fichera. Vincitore quindi della gradatore delle carri alle colleghi contesti e Papa Nostrum. Assolazione Scania Fichera. 805 punti. Grazie a tutti.